Romina Power, cambia, mestiere. Nuovo progetto per la cantante. Romina Power negli ultimi anni come tutti sanno si è molto avvicinata alla religione buddista. A tal proposito l'artista ha collaborato a un nuovo progetto legato proprio alla sua esperienza con la religione orientale. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, ha infatti annunciato l'uscita del suo primo audiolibro, dal titolo Come risolvere i nostri problemi umani le quattro nobili verità. Un progetto a cui l'ex di Albano tiene molto e ha voluto condividere con i propri fan sui social. Romina Power proprio poche ore fa ha presentato questo nuovo progetto. Con uno scatto su Instagram, ha pubblicato l'immagine del libro con accanto una didascalia. Il mio primo audiolibro. In una recente intervista, la donna ha voluto spiegare in due parole cosa rappresenta per lei questa iniziativa, e già dalla presentazione si capisce quanto abbia dedicato anima e corpo a questa iniziativa. Infatti, in molti adesso hanno paura che possa, cambiare, mestiere, e lasciare per sempre la musica. In un mondo indaffarato, le nostre esperienze di felicità sono fugaci e di breve durata, mentre la pace interiore ci sfugge completamente. I nostri stati mentali sono negativi, come il desiderio incontrollato e la rabbia, creano problemi senza fine per noi stessi, e per gli altri e ci impediscono di soddisfare i nostri desideri più profondi. Il famoso insegnamento di Buddha sulle quattro nobili verità offre una soluzione chiara e semplice, guidandoci in un'oasi di pace nel nostro cuore. Poche ore fa, Romina Power ha sorpreso i suoi seguaci con un altro scatto che ha scatenato il web. Si tratta di un regalo inaspettato che l'ha resa molto felice. Da quando è finita la storia con Albano, la Power non si è mai fatta vedere in compagnia di un uomo, anche se la sua cara amica Mara Venier proprio in diretta TV aveva parlato della presenza di un amore. Oggi quella presenza si è forse fatta sentire di nuovo dato che ha mostrato sul suo account un regalo bellissimo. Si tratta di un libro, L'amore ai tempi di se stessi. Un bellissimo dono quello che la cantante americana ha avuto modo di ricevere. Ma ora il mistero si infittisce. Chi è questo misterioso mittente? Sarà forse una persona che prova dei forti sentimenti nei suoi confronti? Chissà se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sviluppi a riguardo. Noi ce lo auguriamo! Grazie! Grazie a tutti! 1